Stato per assistere, visto che non siamo abbastanza contenti oggi perché nel giro di due minuti abbiamo affondato una barca e l'altra la siamo dovuti andare a recuperare col canotto In affondamento? In affondamento appunto e all'aria, stiamo, visto che non è contento, provando anche il catamarano della Idrosonic Con una novità, al posto di girare a solito 12 celle, oggi girerà 14 Quindi teoricamente con 4500 giri in più circa del motore in atemia libera Le batterie sono pronte Il radiocomando è pronto, quasi Non è attaccato dietro